Con la consegna di 21 chiavi in località Pieve ad Ussita si conclude la definitiva consegna delle sale e soluzioni abitative di emergenza in questo piccolo comune ai piedi del Monte Bove. Una comunità dunque si ricostituisce e il commissario prefettizio Mauro Passerotti ha tenuto a ricordare che è importante che tornino le persone ad abitare questi luoghi. Questi cantieri sono iniziati il 15 luglio e quindi terminano oggi, quindi in 7-8 mesi le persone si complimentano perché non abbiamo avuto grandi problemi. C'è stata una grande sinergia, un monitoraggio costante degli uffici del comune e di tutte le istituzioni e i problemi che ci sono stati sono fisiologici, ma la gente si complimenta per le strutture come sono state consegnate e come si presentano e come vedete anche con le vostre telecamere. Vi vado con la memoria a luglio dell'anno scorso quando ero qui in mezzo alla polvere del cantiere dove ancora si stanno preparando le platee per mettere queste casette. Oggi le ultime casette per Ussita hanno un valore straordinario perché vuol dire per questa comunità poter rientrare. Siamo fra quelle realtà dove la ricostruzione passerà attraverso dei veri e propri piani, quindi con dei tempi che sappiamo necessariamente lunghi. Sapere di poter contare su uno spazio così qualificato, così ben realizzato, così ben inserito dentro questo territorio significa avere la certezza che le persone che dovranno attendere i tempi della ricostruzione potranno farlo in condizioni di grande qualità. Pensevamo sempre la nostra casa lassù, siamo soddisfatti tutto quanto, quello che hanno fatto è piccolina perché 40 metri quadri purtroppo io non sono abituata di fronte alla casa che ho lassù in piazza, alla casa piccola. Però accettiamo e ringraziamo tutti quelli che hanno potuto aiutare. Dove state in tutti questi mesi? Sono stata sei mesi in campeggio e poi mi ha ospitato mio figlio per l'ultimo tempo. Come è andata signora a stare lontano dalla sua casa? Ebbè, non mi rimedio mai, mai. Questa giornata per lei che cosa rappresenta? La festa, perché ritorno al paese mio, ritorno alla zona mia. Ho girato un po' tra Civitanova, Grotta Mare, ho fatto un po' di giri. Quanti traslocchi? 4-5. Sono stati impegnativi questi mesi? Molto, molto, molto. E oggi per te cosa rappresenta il rientro? Grande felicità. Sì, non vedo l'ora sinceramente.